Benvenuti alla presentazione del nuovo progetto vending di S-Caffè denominato S-Sistema Espresso. Quindi lascerei la parola al Chief Design che è il signor Nicola Guelfo che invito qua vicino a me che ci racconterà come ha accolto questa sfida e come avete lavorato per avere questo risultato. Prego. Grazie. Il mio compito oggi penso non sia tanto di parlare delle qualità tecniche della S12 che è questo nuovissimo prodotto ma soprattutto di parlare come è nata, cioè cosa c'è alle spalle, dietro le quinte. In questo caso quello che abbiamo pensato è al concetto quasi di un auditorium, cioè un elemento centrale che è quello tecnico, che è quello che è il cuore pulsante della macchina con una forma molto pura, molto lineare e un involucro esterno che ne definisce l'estetica ma che chiaramente questo è l'altro compito di noi designer e cioè appunto la funzione, tiene conto di tutti quelli che sono gli elementi funzionali della macchina, dell'ergonomia, dell'approccio dell'utilizzatore a questo momento magico soprattutto per noi italiani che è quello del caffè. Sistema Espresso nasce due anni fa, questo progetto, per la volontà di portare nelle case un prodotto, un caffè espresso di eccellenza. S12 ha subito i migliori life test per cui l'affidabilità è veramente una cosa importante. S12 oltretutto ha tre brevetti internazionali dai quali emerge il beccuccio evocatore che ci consente un caffè con un'ottima caratteristica analettica e con una crema setosa persistente e con un'ottima tessitura. La nostra gamma di capsule è composta da sei miscele di caffè e sei solubili complementari. Desidero far rilevare quel filo conduttore che inanella un po' tutti quanti gli elementi del nostro sistema. A cominciare dalla quella che è la filosofia con la quale abbiamo da sempre concepito le nostre miscele. Parlando delle miscele mi riferisco ovviamente alle miscele professionali e alle miscele per capsule che hanno quella caratteristica fondamentale di erogare un espresso equilibrato, rotondo, corposo, cioccolatoso ma soprattutto persistente. e ovviamente il filo conduttore che inanella dicevo le miscele alla comunicazione e ovviamente questo gioiello perché così va definito di design e di tecnologia. Mi permetto di fare sottolineare come la forma sia il design sia assolutamente originale ed innovativo con queste forme allo stesso tempo delicate, rotonde, sinuose ma allo stesso tempo decise appunto che pare che abbiano la funzione di proteggere, di preservare qualche cosa di veramente prezioso perché effettivamente la roba molto preziosa che c'è dentro è quel gruppo erogatore di cui abbiamo già sentito parlare e che ovviamente vi inventiamo a testare che ha delle caratteristiche sinceramente straordinarie che devo dire la verità hanno sorpreso anche me nel senso che non solo questo gruppo è in grado di erogare un espresso ottimo ma è in grado di farlo dal primo, ma non dico dal primo della mattina quando accendiamo la macchina la mattina, dal primo in assoluto quando sbagliamo la macchina dal suo involucro la colleghiamo in rete, l'accendiamo in meno di un minuto, va in temperatura, il primo caffè che eroga è un caffè eccezionale ma la roba straordinaria è che il primo è come il secondo, come il decimo, come il centesimo, come il cinquemillesimo perché a cinquemila erogazioni continue abbiamo sottoposto noi prototipi sotto forma di live test. Per cui concludo, per non approfittare ulteriormente della vostra disponibilità, della vostra dedizione di cui vi ringrazio, effettivamente elementi per comporre un sistema espresso di grande eccellenza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.